Oggi abbiamo provato il Glykart della TUDOTS, è un supporto che appunto trasforma gli hoverboard in veri e propri go kart e gli fa andare il doppio della velocità, un hoverboard normale, possibili da tutti i 20 km orari invece che i soliti 10 km orari. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto.